signori buongiorno e bentornati nel canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale negli ultimi mesi abbiamo parlato molto su come generare velocemente incontri nell'ottica del sandbox dagli incontri generati proceduralmente fino al mostro errante e quindi è arrivato il momento di aumentare il grado di complessità è possibile che durante una quest e molto probabilmente durante una campagna il master si trovi nella situazione in cui deve far fare qualcosa ai personaggi dei giocatori ma non abbia nulla che i giocatori possano fare in quel momento questo diventa un problema per il master perché o deve anticipare eventi di quest magari andando a smontare la linea narrativa come era prevista e dovendo aumentare il proprio lavoro o fare dei lunghissimi skip temporali che però hanno poco impatto sulla storia e ci sono ovviamente vari modi per aggirare questo problema oggi andremo a parlare nello specifico di uno di questi quindi non perdiamo altro tempo questa settimana parliamo degli eventi estemporanei devo ammettere che trovare una definizione perfettamente calzante di cosa sia un evento estemporaneo è stato un attimo un problema ma seguite il ragionamento quando parliamo di un evento estemporaneo parliamo di una situazione di gioco in cui i giocatori dovranno portare a termine una serie di incontri non necessariamente di combattimenti comunque dovranno superare una serie di eventi pre organizzati che hanno un loro railroad interno ma che non sono direttamente integrati nella linea narrativa della campagna mi rendo conto che questa definizione potrebbe lasciare molti dubbi in realtà si adatta a molte situazioni differenti di gioco per parlare più chiaro pensate agli incontri estemporanei come a un mini arco di quest che il master ha già preparato ma che non abbia una sua effettiva collocazione ufficiale all'interno degli archi narrativi della campagna vedetela come l'equivalente narrativo del mostro errante abbiamo già fatto questo esempio più volte ma mentre sono in viaggio tra un pianeta e l'altro per preseguire la loro quest l'astronave dei giocatori attraversa un campo di asteroidi e lì viene attaccata dai pirati questo non necessariamente un singolo combattimento la nave pirata non è un mostro errante un incontro casuale potrebbe essere una serie di scene che hanno una loro consecuzio interna ci sarà una prima scena di scontro tra astronavi in cui l'astronave dei giocatori combatterà con quella dei pirati poi i pirati cercheranno di abbordare la nave dei giocatori e i giocatori dovranno difendersi dai pirati mentre si ritirano verso la plancia passando per i corridoi e magari come scontro finale ci sarà il capitano dei pirati e i giocatori dovranno fare un combattimento efico per sconfiggerlo e riprendersi il controllo della loro nave un evento del genere non è un incontro casuale con un mostro ha una sua logica interna è composto da varie scene fondamentalmente va a formare un piccolo arco narrativo autocontenuto di per sé potrebbe essere una one shot per provare il regolamento di un gioco e non ha neanche una sua reale collocazione o collegamento con altri eventi della campagna il fatto che i pirati attacchino chi passa agli asteroidi non ha nulla a che fare con la quest principale dei giocatori se non magari come mero dettaglio per approfondire un po' più l'ambientazione e non ha neanche una sua posizione ufficiale ogni volta che i giocatori passano vicino a un campo di asteroidi in qualunque zona della mappa che stiano andando che stiano tornando qualunque sia l'attività che stanno facendo potrebbe verificarsi l'incontro con l'astronave dei pirati che cerca di prendere il controllo da loro questi sono i due aspetti fondamentali che caratterizzano un evento estemporaneo il fatto di essere autocontenuto e il fatto di potersi verificare in qualunque momento a prescindere da quello che sta succedendo nella linea narrativa principale nell'esempio che abbiamo fatto per quanto la storia possa essere breve abbiamo comunque un arco narrativo completo con suo primo atto un suo secondo atto il suo terzo atto una serie di climax e un boss finale non date per scontato però che sia questa allora la lunghezza corretta per un evento estemporaneo in realtà questo è uno dei rari casi in cui davvero le dimensioni non contano potrebbe essere qualcosa di ancora più breve magari in una singola scena mentre i giocatori stanno esplorando la foresta trovano una grotta abitata da un gigante ma potrebbe essere anche qualcosa di più complesso che si estenda quasi come una vera linea narrativa secondaria più volte magari con png ricorrenti o situazioni ricorrenti in cui i giocatori vengono coinvolti quando ce n'è bisogno mentre i giocatori nella loro quest principale indagano su un grande mistero una quest alla ctaloftulu periodicamente vengono contattati dal commissario di polizia che gli chiede una mano per indagare su alcuni delitti molto più mondani e ovviamente non date neanche per scontato che devono essere combattimenti o comunque qualche tipo di prova che i giocatori debbano superare il classico mentre i giocatori si spostano tra una città e l'altra incontrano sul loro cammino una carovana di mercanti che arriva in senso opposto questi mercanti non hanno imprese da proporre loro e in realtà non hanno alcun interesse al di là del scambiare oggetti coi giocatori se hanno qualcosa interessante e fare qualche chiacchiera da sensore con gente che hanno appena incontrato lungo la strada come ho detto le uniche due caratteristiche sono quello che deve essere autoconclusivo e non deve essere legato alla storia principale a questo punto immagino che vi stiate domandando perché prendersi tanto sbattimento per scrivere fondamentalmente una mini quest che non abbia nulla a che fare con quella che si sta effettivamente giocando in questo momento come dicevo all'inizio del video il motivo è proprio quello che può capitare che durante una quest o magari durante una campagna che è molto più lunga ci si trovi nella situazione il dover far fare qualcosa ai giocatori ma non si ha la possibilità di far fare loro nulla che riguardi la linea principale vera e propria anche in questo caso facciamo un esempio così è più facile capirsi diciamo che la quest che i giocatori stanno intraprendendo è quella di sconfiggere lo scuro signore del male e che per farlo dovranno recuperare l'antica spada magica che si trova in un dungeon nel mezzo al deserto sì questa è un'ulteriore iterazione di banale e bello più volte nel corso della quest vari png hanno detto ai giocatori che il motivo per cui nessuno è mai andato a recuperare la spada e che attraversare il deserto è un'impresa estremamente rischiosa sia per le condizioni climatiche avverse sia per i mostri che popolano la zona dal punto di vista della linea narrativa principale dal punto di vista della storia che sta venendo raccontata nella quest principale tutto quello che succederà in mezzo al deserto in realtà ha scarsissima rilevanza il successivo punto del railroad è che i giocatori recuperano la spada in realtà la traversata del deserto potrebbe essere del tutto schippata e il master potrebbe semplicemente dire ai giocatori dopo diversi giorni di cammino e innumerevoli pericoli arrivate davanti al dungeon sicuramente in un caso come questo il master potrebbe semplicemente limitarsi a generare un incontro casuale durante il viaggio per dare ai giocatori il senso del tempo che scorre e questo sarebbe perfettamente legittimo se stessimo parlando di un viaggio breve giocatori che si spostano da una città all'altra ma è stato detto in quest che questa doveva essere una grande epopea in mezzo al deserto e semplicemente limitarsi ad aumentare uno degli incontri casuali non sarebbe una buona idea al terzo quarto mostro che salta fuori dal nulla semplicemente per cercare di mangiare i giocatori senza motivo anche il gruppo più appassionato di combattimento comincia a ritenere che tutto questo sia solo una perdita di tempo in un caso come questo la cosa migliore da fare sarebbe proprio quella di preparare una mini avventura magari divisa in due parti una per l'andata e una per il ritorno in modo che il deserto acquisti una sua personalità e un suo flavor oltre al fatto che così i giocatori abbiano non solo qualcosa da fare che dia loro il senso del tempo che passi ma abbiano anche la possibilità di interagire in modo significativo con questo ambiente sicuramente tutto questo è preferibile al dopo molte settimane di cammino siete arrivati al dungeon e dopo molte settimane di cammino siete tornati alla civiltà probabilmente qualcuno sta pensando che questo non debba necessariamente essere slegato alla trama l'avventura nel deserto potrebbe in qualche modo riguardare i minion del signore del male quelli per cui serve la spada sì potenzialmente sì ma a questo punto all'interno proprio dell'avventura vorrebbe dire che il signore del male in qualche modo è a conoscenza del fatto che i giocatori passeranno una lì o comunque è a conoscenza del fatto che i giocatori hanno trovato la spada cosa che non necessariamente ma potrebbe non essere positiva per la trama che state raccontando non tutto deve fare riferimento alla trama e a volte è meglio lasciare delle cose slegate ovviamente dipende tantissimo dalla situazione se poi si vuole scendere molto più sul pratico un altro motivo per voler introdurre una serie di eventi estemporanei all'interno della quest e quella per cui ci sia effettivamente la necessità da parte del master di perdere tempo lungo la quest magari i giocatori sono andati un po' troppo oltre con i loro personaggi e adesso sono ricercati dall'autorità locale e debbono scappare o comunque restare meno visibili possibili per un po' di tempo si capita molto più spesso di quello che credete oppure potrebbe essere un'esigenza vera e propria non tanto per i personaggi ma per i giocatori per qualche motivo un buon numero di giocatori del party non potrà essere presente per diverse sessioni capita molto facilmente durante il periodo estivo con quei periodi di ferie a quel punto il master non vuole mandare avanti la trama principale con magari solo metà del gruppo di gioco perché poi al ritorno dovrebbero spiegargli le cose c'è la possibilità che rimangano confusi al di là del si stanno perdendo una parte della storia che loro stesso collaborano a scrivere ma dall'altra parte il master non vuole neanche dire a quelli che invece sono presenti vabbè ci rivediamo tra un mese vuole continuare a far giocare i giocatori che ha ma senza far perdere informazioni fondamentali ai giocatori che non possono esserci in un caso come questo un evento estemporaneo è la cosa migliore il master preparerà un piccolo arco narrativo per quelle 2-3 sessioni in cui il party è ridotto i giocatori che rimangono magari avranno anche una storia qualcosa di più semplice dato che sono meno a giocare ma comunque avranno la possibilità di fare qualcosa potrebbe essere un momento estremamente utile per magari andare ad approfondire retroscena specifico di quei personaggi magari loro ci guadagneranno anche qualcosa ma quando poi il gruppo ritornerà al completo nessuno avrà perso delle informazioni importanti mal che vada agli altri giocatori si faranno raccontare le avventure legate al retroscena dei personaggi che sono rimasti in ultimo un evento estemporaneo potrebbe essere utilizzato per esplorare qualcosa che il master non aveva affatto previsto per la quest ma che per un motivo per l'altro i giocatori abbiano dimostrato interesse nel voler andare a fare mentre i giocatori camminano per la città al mercato il master descrive come controscena che ci sono degli schiavi che scaricano delle casse e i giocatori presi da uno spirito abolizionista decidono che vogliono liberare gli schiavi liberare gli schiavi non era nei piani del master e magari tematicamente non c'entra assolutamente nulla con il resto della campagna però è qualcosa che i giocatori hanno palesemente dichiarato nel loro interesse nel voler fare e il master deve anche cercare di accontentarli il gioco di ruolo funziona così a questo punto creare un piccolo arco narrativo in cui i giocatori combattono contro gli schiavisti potrebbe essere un modo estremamente facile e veloce per accontentare i desideri dei giocatori senza che il master debba portare radicali cambiamenti alla linea narrativa principale solo per introdurre questo nuovo elemento della schiavitù che non era stato previsto all'inizio potenzialmente potrebbe succedere anche l'esatto opposto il master a un certo punto si rende conto che vuole introdurre in campagna un nuovo tema o vuole alterare in maniera significativa la linea narrativa se non in casi come un sandbox di cui stiamo parlando in questo periodo in cui il master non può sapere precedentemente cosa succederà nella sua stessa campagna e quindi semplicemente il master ha bisogno di tempo per scrivere le parti importanti ma non volendo interrompere le sessioni mentre mette mano alla campagna buttare ai giocatori un breve arco narrativo totalmente slegato dal resto che però gli dia quelle due tre settimane di tempo per mettersi a rivedere con calma le cose veramente importanti potrebbe essere la mano dal cielo soprattutto per questo è importante che nel sandbox il master si prepari prima una serie di eventi estemporanei da poter buttare sui giocatori come consiglio personale quasi sempre in momenti in cui i giocatori sono in viaggio da un posto all'altro in modo da non dover improvvisare troppo quando i giocatori decidono di cambiare strada e andare a esplorare qualcosa che il master non si aspettava andassero a esplorare in quel momento o così velocemente il master si farà una sua pool di due tre eventi che possono succedere in modo che quando durante la sessione i giocatori diranno ah adesso vogliamo andare laggiù il master potrà intanto far giocare ai giocatori l'evento che aveva già preparato durante lo spostamento in modo da arrivare alla fine della sessione e poi avere fino alla sessione successiva il tempo per prepararsi quello che effettivamente succederà nella duona zona che i giocatori hanno raggiunto diciamo che per questo video è tutto mi sa di aver anche sforato come al solito i tempi ma non fa nulla diciamo che era un argomento in cui ci tenevo particolarmente a parlarne comunque adesso come sempre la parola sta a voi ditemi se voi avete usato gli incontri estemporanei o non li avete usati perché li usate e perché non li usate come sempre se ci sono domande, dubbi, perplessità scrivete tutto nella sessione dei commenti qua sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è avuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano le metto io a mano nel server di disco del gruppo iTelegram trovate i link d'invito nella descrizione io sono il Master CAE noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao